Ma questo discorso non esiste perché io già l'ho conosciuto una volta fuori dalla casa. Greta all'interno mi parlava, mi raccontava di suo fratello, però io realmente non lo conoscevo, non sapevo chi era. Poi una volta fuori dalla casa, in maniera molto spontanea, in maniera molto naturale, lontano dalle telecamere, ci siamo conosciuti e stiamo continuando questa bellissima storia. Tutto qui.